e ora in pace spero non non avrei mai pensato che sarebbe andata così eroismo e sacrificio sono spesso legati nel corso del destino parole di mia madre devo dire a mio padre cos'è successo cosa ha fatto Lilith non possiamo lasciarle distruggere nient'altro alcuni dei nostri migliori cacciatori non sono tornati dalle colline divenuti prede quando la nebbia è arrivata vorace ora i loro corpi sono alla mercè delle razzie una fine indegna dovrebbero recare i talismani di passaggio i riti delle antiche tradizioni per dar loro la pace conosci bene le nostre terre e sei audace quanto i nostri caduti potresti dar loro un degno riposo no 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 La nebbia è sparita e con essa i cavalieri Mentre lodavano il padre per le sue imprese strada facendo Quante stronzate Fanne buon uso 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 Fanne buon uso